007 e qua siamo in un nuovo video su youtube e come potete vedere qua siamo su clash royale insieme a me in questo momento c'è il mio fratello può parlare sono qui dottore così comunque oggi vi vogliamo intanto far vedere una partita che dopo vi faremo vedere anche come si fa come si fa a fare quel mazzo ve lo faremo vedere allora intanto partiamo tranquilli così buttiamo ok però un po più avanti ok poi noi congeliamo qua tutti fermi possiamo far vedere ok le mazzo il mazzo anche il suo mazzo matteo butta la file rock come che si chiama il razzo il rocket poi l'altro butta la palla ma nulla di che qua lui butta il tipetto la di ghiaccio non so che cos'è e poi butta il l'arcere e poi noi facciamo quel bordello la io non parlo io non parlo così alla cazzo perché devi farlo tipo tutto veloce poi quando arriva rimettilo rimettilo quando arriva ma c'è tutto metti fai vedere qua quello a destra è il mio mazzo con la sinistra il suo cioè il mazzo sotto quando adesso quando lui butta esattamente quando lui butta il gran cavaliere devi mettere a metà meno uno no no vabbè insomma con la roba lì capito aspetta adesso vai guardate adesso guardate adesso che quanto cazzo è diventata che cazzo di orda è diventata non è riuscita a difendere è bello che ci stava facendo anche la torre lui eh sì ma infatti però la no noi abbiamo tirato giù una di quelle robe le abbiamo aperto il culo bene adesso questo che quanto hai registrato manca un minuto forse neanche due minuti comunque noi vi faremo vedere che mazzo abbiamo usato facciamo un'altra partita per farvi vedere un attimo magari altre due o qualcosa che vediamo quanto uscita questo è il mazzo allora lo specchio ricordatevi lo specchio le più importanti sono la specchio il barile goblin ovviamente e la clone poi sarebbe gradito diciamo così pure la la gelo o congelamento io la chiamo la gelo se proprio se si vuole o se non sei sicuri è la furia che comunque potrebbero servire nel caso che non so stai facendo la torre grande e magari non vedi che tipo chiusa le frecce allora lì puoi usare sia la gelo che la furia o anche tutte e due comunque i tre principali comunque li vedete quali sono adesso noi faremo una partita invitami così vi faremo vedere un po' come si gioca usando questo mazzo voi lo sapete un po' come si gioca a cash or y'all se siete un amanti di cash or y'all lo sapete fare a me mi manca un po' tutto cioè a me mi manca soltanto la clone e lo specchio tutto in poche parole quindi io mi devo prendere un po' di carte quindi mi devo allora aspetta che butto giù il gran cavaliere così le tiro giù quella roba allora sei scemo nella testa ti ho detto aspetta che butto il gran cavaliere ok diciamo vabbè insomma diciamo che è importante che non c'ho cosa ok io c'ho il barile goblin la specchio e mi manca solo la clone quindi devo buttare un attimo giù una cosa dove ce l'hai la clone ok c'ho tutto ma te ho un problema riesci a difendere? no allora tu attacca forse forse attacca dall'altra io però non ho tutto per attaccare ma che cazzo se ne frega ma che cazzo se ne frega usa la clone oh no 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 finita 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 va bene va bene il cazzo in realtà ok raga un po' la parte era un po' questa no che culo che culo che culo abbiamo perso no 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 vabbè poteva lasciarcelo a udì poteva no poteva un cavolo cioè un po' avete visto un po' che roba diciamo che se di solito se non becchiamo nessuno che ha la tronco la specchio la zap le frecce il tornado la tornado la cosa di neve la gelo si vabbè è un po' difficile non avere tutto tutto però diciamo che magari magari in quel momento non ce l'ho se non sei stronto no se sei fortunato mi spieghi perché devi tirare sempre il mio lato indietro adesso oh io ho quasi tutto guarda io pure praticamente ok io ho tutto anche la pala di neve ma quello l'ho tirato giù la torre ma va che perché quando lo lasci va che io non me ne sono neanche accorto quello è andato giù la torre come si chiama bosca boscaiolo boscaiolo stavo dicendo boscaiolo non lo so si si vengo ad aiutarti si i volti sono quasi quasi però io non so difendere non so difendere mi sa che con la torre ce la fanno tanto vabbè l'abbiamo fatto pure noi ma te io al diavolo al diavolo la nostra cosa no ci tirano giù la torre se no non so che cazzo dirti oltre tu c'hai tutto almeno no non credo non credo ma cosa fai non me ne fotte un cazzo dai oltre ma l'importante è far vedere la cosa non vincere eh ma te non me la rompo coglione a parte che vincere non vinciamo a parte che forse forse vincere vincere si se teniamo duro ho messo due cose ecco bella lì vabbè olti basta amore della mia vita sei tu sei un po' dai olti no no l'aria che sei un peccato sta ancora registrando sì beh certo tu sei un amore stai zitto mi scusassi ok posso aprire di nuovo un altro un altro baule no no metto qualcos'altro metto il metto la tronca al posto della minchia tronca 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 ecco la cosa bella è che poi magari si potrebbe fare anche con è successo mini inconveniente prima si potrebbe fare anche con magari con gli scheletri con gli sgherri vorrebbe molto bene però il problema è che se lì ti mette delle frecce o delle cose cioè almeno il barbile godine va direttamente a torre comunque io guarda io ho sempre già tutto non capisco perché diciamo che pure io un po' ho già tutto diciamo sì no no però c'ho il gran cavaliere aspetta 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 vai no non serve non serve non serve bene se vuoi metterlo nel tiro prima ma tu ce l'hai tutte le cose già no manca lo specchio ok prendi quanto serve cash 4,7 va bene adesso io c'ho tutto tu vuoi in che torre lo facciamo aspetta io ce l'ho già l'elisir tu non mi saprà no raga non ce l'ho ancora devo aspettare un po' non deve essere deve costruire lo possiamo fare anche la torre no quella che c'ha poca vita dai eh sì se no non c'è gusto ah non c'è gusto ok io ci sono tu facciamo andare avanti la strega poi lo buttiamo e io comunque l'elisir ce l'ho è un problema ma a te no ma anche se ce la fa ma che cazzo ce ne frega no no me ne frega vai 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 sulla torre grande sulla torre cioè non sulla grande scusa quella che ha tanta vita forse forse zitti zitti di nuovo raga di nuovo bellissimo bellissimo da questo tipo ci mette la zappa quindi c'è tutto di nuovo raga di nuovo l'avete visto pure voi è proprio curioso vederlo avete visto pure voi che questo mazzo è favoloso ma è bello è bello quando tu proprio lanci la lanci si vedono tanti i barili goblin che arrivano arrivano 4 barili goblin più 2 clone e quindi raga io ve l'ho detto questo mazzo vabbè rimetti rimetti cioè fai io rivedere il fai io rivedere il replay no vabbè dai guardiamo l'ultima partita a quanto sei di minuti quanti minuti 10 minuti e 23 ecco no non ce la facciamo a fare un'altra partita non lo so ma vediamo no spingere sto cazzi let avanti sto detto ok comunque raga vedete aspetta 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 no comunque avanti perché qua ci devono tirare giù le torri ancora ok ecco ragazzi ecco la madonna guardate tutti guardate quanti sono sono una miriade sono una miriade non riescono a tirarli giù però c'era il cacciatore che quello la non ha fatto niente a un certo punto ci stava per tirare giù la torre no ma perché quando sono così veloci non fa male il tempo però madonna se sono tanti madonna se sono tanti in realtà questo è un trick anche abbastanza famoso sì infatti però è veramente figo se vogliamo farle un attimo velocissimamente un attimo che mi sto riguardando no vabbè ma te lascio perdere ci metto un secondo l'ho già fatto a 4 dai matte muoviti vai ci sono guarda guarda no raga lo stiamo rivedendo perché è troppo bello cioè non so come cavolo riusciamo a farla sta roba abbiamo fatto tutte le robe che poi è stata un'idea mia che vedendo dei video in giro vai guarda 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 sì matte muoviti che se no perde tempo ok io ci sono ci sei 12 minuti sono matte ok vai abbiamo 3 minuti ma se fai tipo qualche minuto in più sì va bene però tipo 16 17 minuti ma deve essere proprio veloce va bene mi hai già invitato sì muoviti ci sono muoviamoci ok ma io no mi mancano due cose da te oppure io ho già lo specchio ho già la clone e mi manca solo il barilozzo io c'ho solo il ho un problema un problema un problema nella testa funziona a metà ogni tanto parte un suono che fa matte ce l'ho già a me manca ancora un botto di visire però anche io ce l'ho mi manca solo le visire se noi lo facciamo abbiamo fatto eh matte non me ne hai fatto un cazzo a me della torre che ce la tirano giù ma non ce la ce la sei matte no mi manca ancora la torre di visire no matte non puoi dirmi questo abbiamo non lo so la tecnica pronta tu che cosa mi vieni no matte ce l'hai la cosa io tiro eh non aspetta fai andare con le là vai dove eh dove l'ho tirato io mmm mmm è barashbam non sanno proprio come difenderlo non sanno proprio come difenderlo mamma mia marcello quanto siamo quanto sei 13 minuto e 37 non ci ho messo un minuto e mezzo ci ho messo ma raga qua le cose si incono fai il replay però fai tutto veloce tutto 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 per 4 fino a quando un minuto e mezzo per 4 raga non so ma no ma per tutto il tempo tanto che se ne frega dai ok tra poco vai io ci sono già uuuu uuuu guarda è adesso è adesso è adesso sbarabem raga guardate qua anche loro avevano fatto la stessa cosa io uso la clone un'altra clone ragazzi sono 4 barili più 2 cloni e sbarabem ragazzi 4 barili quindi inizialmente sarebbero 4 per 3 facciamo la stessa cosa però uno io contro di te tu non fai nulla io ti tiro no perché io sono sarai da solo e non ce la farei da solo no da solo non ce la fai bisogna essere in due perché là ce la fai di più facciamo un'altra no no sono già 4 ore 5 bene questo video era per farvi un po' per farvi capire ne troveremo altri ne faremo altre se ne troveremo e ne troveremo sicuro quindi state accorti mi raccomando ci vediamo in un prossimo video ragazzi mi raccomando andate a seguire su tutti i social instagram youtube tiktok